in Ghana non c'è parenti non c'è persone dove può stare in altri posti no 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 calma no ti assicuro che se ti facciamo facciamo dei controlli, dobbiamo trovarti a casa. La risposta per la domanda di asilo l'avrà fra tre settimane. Anche io pensare a cercare un avvocato. La risposta per la domanda.